Grazie a tutti Lo puoi consigliare a qualcuno? Sicuramente sì E se ti faccio una domanda, conosci qualcuno che beve caffè? Eh, tanti sì, caffè tradizionale, non questo Allora, questo è un prodotto particolare perché è la prima bevanda gourmet, caffè, cioccolata, tè del benessere Se questo è vero, hai sentito anche il professore prima che diceva, dava la sua testimonianza su questa cosa Sicuramente Non a caso, era uno degli invitati Certo Ha visto questa cosa che l'ha sconvolta un attimo Infatti, perché lo conosco e me l'ha detto poco fa, ha detto in effetti una cosa nuova che ho scoperto Buono, visto che ti piace tanto, fai in modo di saperne di più su questa cosa E portati a casa una scatola, così lo fai seggiare agli altri Certo che sì Ok, grazie, un abbraccio, ciao Ciao Ciao